Mi chiamo Rino Rusciano, sono dal giugno 2009 Assessore Servizi e Solidarietà Sociale. Una delle attività a cui guardo con maggiore attenzione e impegno è la farmacia comunale. La farmacia comunale è un'azienda speciale del Comune di Sedriano, è posta in via della Filanda ed è un bene della comunità e come tale da tutti noi va considerata e valorizzata. Proprio per questo è intento dell'amministrazione comunale che la farmacia diventi sempre più un centro di servizi sanitari per il cittadino. Io sono Silvio Belloni, sono il presidente della farmacia comunale. Il mio incarico prevalente è quello di fungere da tramite dall'azienda speciale stessa all'amministrazione comunale. Le linee guide principali della farmacia sono quelle sì di vendere il prodotto per quanto riguarda la soddisfazione del cittadino con continue offerte commerciali, ma anche quella di avere un impatto molto forte sul territorio per quanto riguarda il sociale, con giornate divulgative o donazioni a enti bisognose. Vi invito anche nella nostra farmacia comunale posta in via della Filanda anche solo per un consiglio e non per acquistare solamente un farmaco. In questi 18 mesi la farmacia ha attivato una serie di iniziative con aziende farmaceutiche che hanno messo a disposizione gratuitamente esperti professionisti, che hanno dato consigli per la salute e la bellezza del cittadino. A questo proposito vi invitiamo a contattarci per suggerimenti attraverso il sito comunale dove troverete i nostri numeri di telefono e le nostre mail personali. Come avete potuto ascoltare dalle parole del nostro presidente Silvio Belloni e del nostro assessore competente signorino Rusciano, si sta tentando di offrire un servizio sempre più completo e più rispondente alle vostre necessità. Venite fiduciosi nella nostra farmacia, sarete accolti da una buona disponibilità, da un servizio di informazioni e soprattutto avrete anche la possibilità di un piccolo risparmio che fa anche comodo. Gli eventuali utili, così facendo, della farmacia verranno destinati ad attività e all'acquisto di beni esponenti per il vostro benessere e perché siano a disposizione. Della nostra comunità. Arrivederci nella nostra famiglia comunale. Ecco come potete vedere se mi presenti voglio vedere un anno di K presenza di alcuni volontari che si stanno impegnando nel cosiddetto banco e c'è una raccolta di farmaci che i vari clienti che si avvicendano qui in questa farmacia poi disinteressatamente offrono a questi volontari che bisogna sempre ringraziare per la loro attività, offrono per un momento poi successivo, per dopo, per quanto riguarda un'eventuale distribuzione ai bisognosi, a coloro che necessitano e in qualche modo non se lo possono permettere proprio per un fatto economico. Quindi sentiamo i nomi in modo tale che possiamo anche ringraziarvi persone. Alessandro, Danilo, Elena. Ok, quindi penso che sia un'iniziativa veramente lodevole da incoraggiare, da sostenere e soprattutto quindi va tutto il ringraziamento nostro e partirà l'amministrazione comunale di Sedriano, ma anche penso a tutti i cittadini.